I fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in trepidante attesa per scoprire il nome scelto per il figlio che la coppia sta aspettando. È lo stesso Pierpaolo a rivelare dettagli su questa dolce attesa in una nuova intervista per Fanpage, dove parla anche della sua esperienza teatrale con Rocky il Musical. Mentre si esibisce sul palco con emozione, Pierpaolo si prepara ad accogliere il suo secondo figlio, frutto dell'amore con Giulia Salemi. Sebbene abbia già un figlio, Leo, avuto da una precedente relazione, Pretelli vive questa gravidanza come un'esperienza nuova e speciale. Giulia Salemi, d'altra parte, si trova di fronte a un nuovo inizio e, come ha confessato a Verissimo, ancora fatica a realizzare di diventare madre. Con il parto previsto per metà gennaio, la Salemi è molto emozionata ma anche spaventata. Il nome scelto per il bambino è ancora un mistero, ma si sa che sarà un maschietto, ma come rivelato da Pierpaolo durante una puntata di Verissimo. L'ex Geffino ammette che il nome verrà scelto in modo naturale, probabilmente quando guarderanno il bambino per la prima volta negli occhi. Intanto, Pierpaolo si gode il successo sul palco con Rocky il Musical, un ruolo che lo emoziona e lo rende consapevole della grande responsabilità che porta con sé. Il suo percorso a tale quale show lo ha aiutato a gestire le emozioni e a superare le crisi di panico del passato. Giulia Salemi, dal canto suo, è rimasta scioccata nel vedere Pierpaolo in un ruolo così importante e lo ha sostenuto con entusiasmo. Ora entrambi guardano al futuro con speranza e entusiasmo, pronti ad accogliere il nuovo arrivato e a continuare a coltivare le proprie patologie.